quelli di casa ci sono, ragazzo, bisogna imparare una cosa, che a un certo punto uno eroga la didattica, però non sono la vostra baglia, cioè se vi va bene, bene, se non vi va bene, cavoli vostri, vi siete persi la spiegazione, peggio per voi, cioè non è un problema mio, il mio problema è fornirvelo, se no sarei in cura, se no, cicci bene. Allora, dicevo, questa è la Madonna detta di Francoforte, semplicemente perché oggi in quella città, in quel museo, che raffigura l'ennesima Madonna col bambino, una Madonna del latte, e qui faccio notare tutte le caratteristiche che abbiamo finora evidenziato, gli oggetti quotidiani, il valore simbolico, il broccato, eccetera, ma devo far notare due cose, Uno, il tappeto, questo tappeto è un tappeto di tipo persiano, di tipo pressafavide, che viene importato in Borgogna nel Quattrocento, voi sapete che la Persia è da sempre e tutt'oggi famosa per i suoi tappeti, no, tappeto persiano, ovvio, e in particolare la città di Isfahan, l'antica capitale, e questi tappeti attraverso l'impero ottomano e poi Venezia venivano veicolati in Occidente. Noi sappiamo che i duchi di Borgogna sono fra i primi sovrani europei in assoluto a possedere uno di questi splendidi tappeti. E questi tappeti verranno raffigurati spesso da Jan e lì nascerà una moda, una moda che grandi artisti italiani e fiamminghi, da Andrea Mantegna a Hans Holbein, i giovani, fino al Cinquecento, ampiamente proseguiranno. Un altro elemento interessante è il bambino, lui arriva al tasso di questo bambino, bambino è bellissimo, è pacciugotto, questi bei guanciotti ripieni, io lo mio mammo mi sta dando la pappa a me mi piace tanto, no? Cioè c'è proprio quest'area soddisfatta e addirittura c'è un dettaglio, credetemi, Maria lo sta tenendo con la mano destra per tenerlo su bene, no? Giusto, normale. Io sono un espertissimo di allattamento. No, perché avendo adottato mio figlio che aveva 40 giorni gli davamo il mailing e allora io e mia moglie ci davamo il cambio. Io spesso l'ho adottato, tant'è che quando sono tornato a scuola, al liceo dove allora insegnavo, tutti erano contenti, mi hanno fatto festa, che hanno adottato il bambino, che bello, che bello. E uno in gemma, poverino, c'è chiaramente pirla, cioè non era cattivo, era proprio in gemma, ma lo allatta sua moglie? E io genito, no, lo allatto io e ho visto il suo mondo cadere a pezzi in pochi, ma allora? No, certo, no, io ho pirla, col biberon, col melin. Allora, dicevo, lo tiene su bene per fare bene il ruttino, ma la mano di Maria, siccome la pelle della bambina è delicatissima, la pelle fa una leggera increspatura. E' chiaro, no? E questo vuol dire proprio un iperrealismo strepitoso, che poi si abbina invece ai due leoni, scusate, ai quattro leoni, ai quattro leoni del trono, perché questo bambino è il leone di Giuda, perché questo bambino è il discendente di Giuda attraverso Davide, è quindi il leone, simbolo di Giuda, è il leone di Dio, come dice l'Apocalisse. Un altro capolavoro di medio-grandi dimensioni è la pala del canonico Fan der Peule. Allora, qui siamo a Bruges, siamo nella cattedrale, il dipinto è tuttora nel museo della cattedrale, e raffigura il canonico Giorgio Georg van der Peule, van der Peule, con la P di Palermo, van der Peule, il quale è questo anziano signore qui inginocchiato. Il soggetto è la Madonna col bambino, e il canonico van der Peule, che viene presentato alla Madonna da San Giorgio, e il motivo è tecnico, lui si chiamava Giorgio, il canonico, quindi il suo protettore San Giorgio, e da San Donaziano, santo a voi notissimo, so che voi tutte le sere implorate San Donaziano, no, San Donaziano è il protovescovo di Bruges, e quindi il santo patrono di Bruges, semplicemente è sepolto proprio qui nella cattedrale, dove si trova questo dipinto. Quindi, Madonna col bambino fra San Donaziano e San Giorgio, che presentano il canonico van der Peule, ok? Il quale canonico van der Peule, ve lo mostro perché è troppo figo, sto ritratto, perché è di una devastante bellezza, questo vecchio uomo, con la crudeltà con cui Jan ne raffigura, il decadimento fisico evidente, addirittura, questo vi do la misura della perversione, qui c'era un carbonchio, cioè un piccolo cancro della pelle. Quando hanno fatto il restauro, hanno ritenuto che fosse aggiunto e l'hanno levato. Qualche anno dopo, hanno scavato e hanno trovato la tomba del canonico van der Peule, e che si era mummificato, dove hanno trovato la mummia, e la mummia c'è a carbonchio, il che vuol dire che Jan l'ha raffigurato con una precisione da anamnesi clinica ospedaliera, e il risultato è incredibile, questo bellissimo ritratto di vecchio. Ora, diciamolo pure, diciamolo in tutta onestà, è chiaro che il vecchio aiuta. Gli anziani, per definizione, sono più espressivi, perché ovvio sono pieni di rughe, hanno una potenza espressiva che li rende meno belli, ma più comunicativi dei giovani. Ed è chiaro che gioca facile, ritratto al Bergatti, ritratto di van der Peule, eccetera. Però il risultato è uno dei vertici della ritratta in stile di tutti i tempi, questo è indiscutibile. E l'insieme è giocato su un abile mixage, le vesti preziose, l'armatura come all'annuncio dell'Angelo di Rotterdam, la veste preziosa come... Ecco, questa qui, la vedete subito, è la gemella blu di quella rossa dell'annunciazione di New York. Eccola qua. E in effetti fanno parte di un parato, cioè di una serie di vesti liturgiche, che era stata regalata alla cattedrale proprio dal canonico van der Peule. E poi i particolari da orafo, del pastorale o della mitria di San Donaziano, il gesto cortese di Giorgio in questa fantastica armatura, che si leva l'elmo per ossequio alla Vergine, il tappeto persiano, il baldacchino di broccato, le due statue del trono, con Davide che uccide il leone e Sansone che uccide il leone, strepitoso, e poi questa bellissima ambientazione in uno spazio architettonico, anche qui con le pianelle, con i riquadri, vedete, che sono la stessa logica della Madonna Roulin, che abbiamo visto prima. Quindi vedete che Iana, certo che ama la miniatura, ma se la cava benissimo anche nelle grandi dimensioni. In più, qui poi sono le scritte, su San Donaziano e San Giorgio, perché questo quadro, e questo spiega la forma orizzontale, era messo su un altare laterale. Spesso era uso, c'era un altare che era stato finanziato da van der Peule, davanti al quale egli verrà poi sepolto, e sopra c'era questa pala d'altare, però siccome era in chiesa, indicava ai devoti, guarda che questo è San Donaziano, guarda che questo è San Giorgio, Madonna col bambino, anche gli imbecilli la riconoscono, insomma, ok, e ovviamente è sempre Margrethe Van Eyck, è sempre il piccolo Jan. Ecco, questo è il ritratto di Jan Teluf, cioè Jan de L.L. Londra, Empoli, Empoli, Udine, Winchester, Jan Teluf, Giovanni Leone, diremmo in italiano, Giovanni Leone, Jan Teluf, che era in questo caso, uno vede l'anello e dice, ah, no, no, matrimonio, finanziario, no, questo è un orafo davvero, questo è il capo della dilda, cioè dell'associazione degli orafi di Bruges, detto in modo più brutale, uno degli uomini più ricchi e potenti di Bruges. e qui, come gli era già un po' accaduto con Leal Souvenir, Jan dipinge anche la cornice, Jan, questa cornice è intagliata da lui, e da lui c'è una lunga iscrizione in cui ci dice l'identità del personaggio, anche qui su fondo scuro, con veste scura ma dei bordi lussuosi, e in mano l'anello, in questo caso perché è il presidente, il capo dell'associazione degli orafi di Bruges. Questo potente ritratto, vi faccio notare la discreta ma coerente geometrizzazione dei tratti del volto, qui si è supposto, credo a ragione, che sia arrivato qualcosa di umanistico, perché questo volto un po' classico, ma già questo bambino un po' nerboruto, con un po' troppi muscoli per essere un bambino così piccolo, sono elementi che vanno a favore di rapporti con l'umanismo italiano. Questi bambini ercolini li troviamo in masaccio, tanto per dire, il trittico di Cascia di Reggello, 1421, per dire una banalità, e questi volti geometrizzati li troviamo in tutta la pittura italiana del Quattrocento, per cui si potrebbe ipotizzare qualche rapporto, non è banale, a Bruges c'era una ricca comunità toscana, in particolare lucchese, Giovanna Annorfini, Giovanna Cenami, per cui niente di strano che ci sia anche questo elemento. Ecco, questo invece, scusate la foto purtroppo è anteriore al restauro, per cui la vernice protettiva in giallendo, a contatto con l'ossigeno dell'atmosfera, e quindi ossidando, da questo schifoso colore piscio di gatto, che ovviamente non è quello originale. Questo è un ritratto di Baudouin de l'Annois, Baudouin Baldovino, de l'Annois, Londra, Ancona, Napoli, Napoli, Otranto-York, Baudouin de l'Annois, che era uno dei grandi della corte di Borgogna, e che era insignito di quello che ha tutt'oggi il più importante ordine cavalleresco al mondo, cioè l'ordine del Toson d'Oro, fondato dai duchi di Borgogna, poi ereditato dagli Asburgo, e questo, vedete qui, il Toson d'Oro, cioè il vello d'oro conquistato da Giasone, nella Colchide, che sta, lui è un cavaliere del Tosone. Quest'uomo era il gran, diciamo, maggiordomo, ma era un termine puramente onorifico, della corte di Borgogna, e quindi aveva in mano questa bacchetta, questa asta che ne è simbolo, ha un berretto, che è l'antenato della nostra tuba di pelo, e ha questa sontuosa, anche questa deve essere ricostata, un paio di feudi, questo vestito preziosissimo. Quest'uomo fa tenerezza, perché aveva una particolarità, era sordo muto, era sordo muto. Io mi sono occupato, mi è sempre affascinato il tema di quelli che oggi con vomitevole ipocrisia si chiamano diversamente abili, mettendo insieme quelli che sono diversamente abili con quelli che invece hanno delle inabilità, cioè non puoi dire una persona paralizzata che è diversamente alibi, perché disputa in un occhio e ha ragione. Quindi voglio dire, quest'uomo diversamente abile era sordo muto. Filippo il Buono, che era suo amico d'infanzia, per lui non è nato sordo muto, lo è diventato, lo mantiene in tutte le sue cariche, fino alla morte. E lui infatti è questo alto dignitario di Borgogna, con questo volto fisso, che facciamo fatica a capire se non ci rendiamo conto dei suoi problemi fisici. Per cui lui è irrigidito in questo suo mondo, in qualche modo isolato, della sordità, del mutismo, un ritratto potente e anche un pedino patetico, se vogliamo. E qui invece è l'altro capolavoro assoluto, oggi ad Anversa, che è la Santa Barbara. È un disegno a penna d'argento, parzialmente acquarellato, e qui così è un quadrettino e raffigura in primo piano Santa Barbara seduta, che sta leggendo un libro di preghiere e in mano la palma, simbolo del martirio, e dietro la torre, perché secondo la tradizione Santa Barbara è stata chiusa da suo padre in una torre e quindi la torre, ma la torre diventa per Jan l'alibi per una splendida raffigurazione di una torre medievale in costruzione. Questa quantità di operai che si stanno affaticando tra ponteggi e carrucole, qui sgrosso del materiale, diventa uno spaccato di vita quotidiana incredibile e la bellezza poi di questa torre tardo-gotica, che può essere benissimo la torre di una cattedrale, come la base di un beffroa, di una torre civica, che è in relazione con Barbara. Anche qui la bellezza, no, vedete, pur giocata sul monocromo, perché qui è un monocromo, la bellezza di questo panneggio fittissimo che costituisce la veste di Barbara in primissimo piano. Ecco, questo è il trittico di Dresda, che ha la sinistra qualità di essere l'unico dipinto di Jan van Eyck che non ho mai visto, gli altri li ho visti tutti, e dicevo, il trittico di Dresda, anche qui con la cornice antica, con la lunghissima iscrizione, anche qui è un mercante di origine italiana che sulla cui identità però si discute, se non il nome, il nome certo, si chiamava Michele e si chiamava Michele perché l'arcangelo Michele lo sta introducendo alla Vergine, mentre dall'altro lato c'è Santa Caterina d'Alessandria che, secondo la tradizione, era stata schiacciata da una ruota che poi si era rotta, infatti la vedete qui, la ruota, e poi l'hanno decapitate, quindi la spada. Quindi la Madonna col bambino tra Santa Caterina d'Alessandria e San Michele con il donatore. L'interno è un'altra delle bellissime chiese a cui Jan ci ha abituato e questo trittichetto, chiudibile ovviamente, rappresenta, come vedete, a spazio unico questa bellissima cattedrale in cui Jan inserisce poi le nicchie con le figure dei Santi, questo sontuoso, solito trono di broccato, base di tappeto persiano, questo addirittura emozionante per qualità e questo addirittura è stato riconosciuto, cioè questo è un tipo di tappeto, Alice Fan 14, qualcosa del genere, che effettivamente esiste e veniva prodotto. La palese somiglianza con la pala van der Peule dell'Arcangelo Michele che nella parte sinistra e poi anche qui l'ultima zampata del leone, cioè la finestra di destra aperta dietro Caterina che mostra uno squarcio di paesaggio urbano e campestre come al solito. E questo, scusate la foto è mediocre, questo, sempre alla National Gallery di Londra, è il ritratto di Margrethe Fan Eyck, a furia di fare la modella si invecchia. Qui è Margrethe di mezza età, non è più la ragazzina di una volta, è una signora matura, ricca, indosso una veste che deve essere costata parecchio al marito, questa bella veste rossa col cinto di fedeltà coniugale e questo cappello, cioè questo veletta col pizzo di Bruges, famoso pizzo di Bruges, tuttora praticato, la classica corna, non ci sono sottesi di infedeltà coniugale, no, è una moda diffusa, le mani, tenute anche qui inevitabili, questo forte, potente volto che però è il volto di una signora di mezza età, evidentemente con risalto violento rispetto al fondo scuro del rosso dell'abito e del bianco della veletta che si fondono anche cromaticamente nel rosa del incarnato di Margherita van Eyck. Un'opera tarda, questa è una delle più piccole opere degli anni, alta 18 centimetri, è la Madonna della Fontana. Qui ritroviamo praticamente tutti i modelli che abbiamo visto finora, l'ortus conclusus, la fonte di vita, il trono di Broccato, questa volta retto da due angeli, insomma c'è tutta la simbologia mariana e cristologica e c'è questa Madonna della tenerezza che sta baciando il bambino, il quale fa un divincolo che sembrerebbe strano, ma che in realtà è abbastanza tipico dei bambini e il bambino ha in mano in modo volutamente incongruo un rosario, ma questo rosario è fatto di corallo e il corallo veniva usato come collanina per i bambini per secoli perché è ritenuto un potente rimedio contro la disterite infantile. So, politico Montefelto di Piero della Francesca oggi a Brea, questo bambino ha la collanina di corallo, tanto per dirne uno. opera relativamente tarda, opera di devozione privata e poi eccolo qua, qui c'è uno sforoso, qui c'è il turbante rosso, ma non è un autoritratto. Vediamo se indovinate chi è. è invecchiato, però è lui, è Giovanni Arnolfini da vecchio, è Giovanni Arnolfini e Jan simboleggia l'amicizia per il vecchio amico esodale e compare raffigurandolo come se fosse un autoritratto, chiaro, no? Cioè per dire quanto uniti fossero e quindi questo bellissimo dipinto oggi a Berlino raffigura un Giovanni immaturo, sempre in sontuosa veste con un meraviglioso drappo, cappello rosso e i tratti evidentemente invecchiati, non invecchia solo Margrethe Van Eyck, invecchia anche Giovanni Arnolfini. Ecco, questo è un dittico di una collezione tra le più strane di Europa, la grande famiglia dei Fontissen, poi Fontinsen Borne, Mitzah, famiglia di origine tedesca, quelli che ancora oggi fanno gli ascensori e le scale mobili, quelli che durante la seconda guerra mondiale usavano gli ebrei come schiavi, quelli lì, quelli carini. I Fontissen, dicevo, prima della prima guerra mondiale avevano raccolto una bella collezione di dipinti nel castello di Rohont in Ungheria, poi l'avevano trasportato tra le due guerre a Lugano perché meglio la Svizzera neutrale e alcuni anni fa l'hanno trasferita in gran parte a Madrid e una parte a Barcellona. Io ancora ricordo da ragazzo quando andavo a Castagnola di Lugano a vedere la Fontissen, è una collezione, è la più importante collezione privata al mondo, se escludiamo quella della regina Elisabetta d'Inghilterra che però è privata tra virgolette insomma se non sobrano e un pezzo di questa collezione è questo piccolo strano dittico che è l'unico caso che conosciamo di un dittico che chiuso aveva gli stemmi oggi ridotti a frammenti aperto non aveva due figure normali ma aveva due grisaglie che come vedete rappresentano l'annunciazione però sotto forma di due statue tre se contiamo la colomba dello Spirito Santo ma la cosa ancora più interessante qui lo vedete che lo sfondo è questa pietra nera la pietra di Ipr che in effetti è diffusa nei Paesi Bassi e che permette una pietra discretamente rifrangente per cui voi qui vedete l'ombra della figura di Maria la pietra bianca della scultura di Maria che si riflette sulla pietra nera dello sfondo e anche qui la cornice scritta dipinta intagliata dallo stesso Jan è un piccolo e squisito dipinto veramente raffinatissimo ed è l'unica grisaglia come dipinto e non come parte di dipinto perché anche la trinità del maestro di Flemal era frammento di un politico che abbiamo oggi ecco poi Jan dipinge un'immagine notissima che è quella del Salvatore Mundi una visione decisamente frontale come già vi spiegavo parlando del pulpito di Nicola Pisano nel Battistero di Pisa ti spiace chiudere? perché siete freschino so voi una delle più affascinanti problematiche per un artista era figurare una figura frontale e non di tre quarti o di profilo perché se una figura è frontale grazie ti viene con la faccia da scemo e questo vale per l'angelo di Nicola e vale per questo strepitoso Cristo Salvatore Cristo a mezzo busto frontale su sfondo scuro con un'aureola a croce barbuto con la barba biforcuta simbolo di saggezza le folte chiome simbolo di dedicazione adesso è arrivato simbolo di dedicazione a Yahweh è il nazianzeno allora intanto che i comappari si seguono vi spiego cos'è un nazianzeno nel mondo ebraico c'erano delle persone che fin dalla prima della nascita in generale erano le madri che li consacravano a Dio questi non potevano nella loro vita dagli assi capelli non potevano fottere non potevano bere vino e bevande inebrianti e vengono chiamati nazianzeni il più celebre nazianzeno è senz'altro Sansone con la simbologia del taglio dei capelli a opera dell'astuta e perfida Dalila che implica la sua debolezza la perdita della sua Erculea forza ok Gesù è il consacrato a Yahweh per definizione e i Vangeli fanno un gioco di parole tra nazianzeno nazareno cioè abitante a Nazareth Gesù ha passato gran parte della sua vita a Nazareth quindi quindi i capelli lunghi indicano questo è il nazianzeno nazareno è saggio è il salvatore ha la veste rossa della passione e della gloria ha la croce dell'aureola questo dipinto è perduto noi cioè non abbiamo più l'originale di Jan van Eyck e questo è un caso paradossale ma non è il caso non è un caso unico di un dipinto famoso di cui abbiamo centinaia non scherzo centinaia di copie e di cui non abbiamo più l'originale l'originale è perduto questa è una delle più antiche copie buona di buona qualità ma non è Jan questa è una copia fiamminga intorno al 1450 a Jan morto e sepolto e riproduce fedelmente anche la cornice con l'iscrizione tutto perfetto ottima copia una delle migliori però obiettivamente abbiamo perso l'originale di Jan Fanaica e questo è curioso capita a volte capita con i libri a volte capita con i quadri invece un capolavoro di cui finalmente si è riconosciuta la autografia è il San Gerolamo nello studio oggi a Detroit in America e San Gerolamo è un tema che sarà molto amato nel 4 e nel 500 perché Gerolamo secondo la tradizione è il grande studioso Gerolamo era cardinale era studioso aveva guarito un leone che gli stava sempre vicino e quindi era figurato in questo modo cioè nello studiolo stracolmo stracolmo di libri qui c'è tutto un gioco di rimandi ma anche Antonello da Messina fece un'opera su di lui è certo che è copiata da quella di Jan cioè Antonello è uno di quelli per essere precisi allora diciamola bene il modello nasce nel tardo 300 e io vi ho mostrato ed è un continuo palleggio tra Italia e Fiandre nel tardo 300 è il modello ma siete proprio dei granrompi cioè arrivate e state qua e ripartite e che palle ciao ragazzuoli e dicevo ci rivediamo all'esame allora tipico rumore del divaricatore dicevo andiamo avanti allora no torniamo a noi allora questo modello nasce intorno al 1360 70 con Tommaso da Modena a Treviso Circo dei Domenicani a San Nicolò poi va avanti e arriva in contemporanea Castiglione Olona dove intorno al 1436 Masolino lo raffigura nei padri della chiesa bellissimi del Battistero poi più o meno nella stessa e qui dovremmo essere intorno al 1436 38 siamo negli stessi anni siamo in parallelo a Jan con Masolino e Jan lo raffigura in questo strepitoso San Girolamo di Detroit questo è noto attraverso copie che arrivano in Italia e una di queste copie ha chiaramente ispirato Antonello da Messina quando probabilmente alla vigilia della partenza da Milano nel 1476 75-76 ha realizzato il meraviglioso San Girolamo nello studio a cui vostro collega faceva cenno che è attualmente alla National Gallery di Londra e poi il tema va avanti con Albert Dürer va avanti nel 500 nel 600 con Ribera con Velasquez con scusate con Luca Giordano è un tema che ha una fortuna propria fino a 700 e oltre ora qui come vedete a parte il leone che sembra un gatto il resto è una quasi è una spettacolare quasi ossessiva raffigurazione degli oggetti che non sono solo i libri accatastati ma sono anche gli alambicchi la clessidra il goniometro tutti gli strumenti di lavoro di un intellettuale questi bellissimi pezzi di mobilio il mobile a scrigno che conteneva cioè altri libri e il seggio dall'altissimo schienale dalle decorazioni palesemente gotiche poi siccome lui e Jan non si accontenta di fare addirittura in alto un pezzettino di finestra che appena si intravede tanto per dare caso di dirlo la zampata del leone poi c'è questo altro dipinto di cui non possediamo ah che rottura eh dicevi di cui non possediamo l'originale questa è la copia più antica questo dipinto noto come la toilette tanto per dargli un nome in origine aveva una composizione diversa cioè era raffigurato come se uno dalla porta socchiusa vedesse discorcio quindi questa immagine era obliqua non era frontale questa giovane donna che si sta pulendo si sta facendo la toilette assistita da una diciamo signora più anziana il tutto in un interno foderato di legno ora sappiamo che i paesi nordici hanno questi tre elementi no il freddo l'uso degli ambienti coperti di legno pensate nella nostra valtellina alla stua cioè quegli ambienti coperti di legno dove la famiglia si rifugiava d'inverno perché c'era caldo e poi l'igiene il culto dell'igiene quel culto dell'igiene che diventerà che è abbastanza tipico del nord unitamente a quell'amore per l'interno per la casa che poi diventa anche amore per l'autonomia non è un caso che noi a tutt'oggi usiamo il termine privacy all'inglese per indicare il rispetto del ecco ora questo curioso dipinto strano è poi reso ancora più complicato dallo specchio a sinistra in cui si specchiano le donne ma in cui nell'originale ricordate il chiaro obliqua si specchiava anche la figura del del guardone che stava che bella topa che stava nel senso del del re del ratto ovviamente che stava osservando la fanciulla ora in realtà qui ne abbiamo dei particolari molto interessanti uno sono gli zoccoli in primo piano stile con Gernolfini due questo bellissimo nudo stile Eva dell'agnello mistico lo specchio stile Gernolfini la finestra più volte ricorrente e poi tutti i dettagli ma questa finestra è chiusa e c'è credo se non si viene da broncopolbonite sì ma è anche emblema di castità gli zoccoli pure e allora non si capisce dice come si può combinare questa vena vagamente erotica con addirittura vuoiuristica con la sottolineatura delle virtù di questa donna si è molto ragionato c'è anche un letto e qui si intravede di sottofondo ora la domanda sono fatte molte ipotesi io appartengo a una corrente che dà questa interpretazione allora partiamo dal dato più semplice questa signora un po' anziana donna di mezza età chi è? l'avete già vista chi è? col vestito rosso le corna la veletta col pizzo di Bruges la moglie è Margrethe Fanheik è Margrethe Fanheik che ormai ha una certa età non è più avvenente e sta assistendo questa giovane donna che invece ha tutti i caratteri della bellezza ideale fiamminga i seni alti piccoli e sodi la pancia prominente il grosso culo eccetera ora come la Eva dell'agnello mistico e a questo punto il gioco è sottile se il voyeur del quadro originale che vi era riflesso nello specchio è Jan Fanheik e tutto lascia intuire che lo fosse perché aveva l'immancabile berrettino rosso e se lei è Margrethe Fanheik signora di mezza età chi è a questo punto la ragazza che si sta lustrando la topa per dirlo misticamente chi è? vediamo se siete molto intelligenti una delle sue figlie magari Dine risposta intelligente ma che non darebbe conto della dimensione voyeuristica cioè un padre incestuoso che guarda la figlia che si pulisce i genitali insomma via non mi sembra molto carino allora no c'è un nesso prego bravo molto bravo chi è che l'ha detto? bravo è lei da giovane e questo anche se detto in un modo strepitosamente paradossale è un regalo d'amore è guarda che tu adesso sei così sei una signora di mezza età un po' sfatta non sei gli anni passano per tutti ragazzi ma per me per tuo marito tu sei sempre così e non solo sei sempre bellissima ma per dirla più precisamente mi attizzi sempre ti tromberei ancora ogni minuto è chiaro è un messaggio d'amore clamoroso sia nel senso affettivo sia nel senso erotico che molto probabilmente Jan regala a sua moglie è un regalo di anniversario felici 30 anni di matrimonio felici 40 anni che ne so è un'idea straordinaria no? in cui la dimensione affettiva per me tanto sarei sempre la stessa anche se invecchi anche se non mi importa ma non solo ma mi piaci proprio cioè ma rapi pure non è un amore così affettuoso gente a due vecchietti che si fanno compagnia mi piaci proprio bella buona cioè c'è tutto questo c'è questa potenza è un capolavoro strepitoso che purtroppo non abbiamo più perché questa è una coppia questa è una coppia di fine 400 una delle più antiche purtroppo quelle che ci restituiscono la forma originale del dipinto cioè i due obliqui col voyeur che guarda sono ancora più tardi quindi ahimè questa più antica però è un dipinto straordinario se guardate lei ha proprio i capelli sciolti delle madonne che abbiamo visto che è lei da giovane chiaramente questo è un dipinto molto enigmatico l'annunciazione l'annunciazione oggi a Washington D.C. National Academy of Arts che è molto strana è stata ritenuta da molti una copia adesso l'hanno rivalutata probabilmente è un'opera che Jan compie con il vasto aiuto del suo grande allievo Petrus Christus Petrus Christus che poi erediterà la bottega di Jan il quale è intuibile in parecchie figure diciamo che è una ideazione di Jan molto completata da Petrus Christus la Madonna sulla soglia di una chiesa ancora una volta Maria Chiesa chiaro le rovine il mondo classico in rovina e la novità di rompente del cristianesimo questo stranissimo scorcio dall'alto molto interessante per l'evoluzione del tema il tema della prospettiva dall'alto è un tema che arriva fino a Pozzane è un tema trasversale nella storia dell'arte però il dipinto indubbiamente ha dei punti bellissimi le rocce in primo piano sono strepitose il rudere è estremamente bello le figure sono più deboli e c'è la presenza di Petrus Christus invece era ritenuto una copia ma semplicemente era sporco poi l'abbiamo pulito ed è un originale di Jan anche se con la presenza più massiccia di collaboratori Jan aveva una forma fastidiosa di artrite pensate che era un pittore insomma non è il massimo e questo capolavoro è la fontana di vita pure proveniente dalla certosa di Miraflores cioè quel posticino da niente che aveva la deposizione di Roghef under Biden e la fonte di vita di Afanayk tanto per gradire è stato tagliato malamente perché faceva parte di un politico smembrato però raffigura una complessa iconografia qui c'è ancora una volta la fonte di vita qui con il suo pinnacolo gotico questa è una fonte molto battesimale qui ci sono i potenti della terra l'imperatore il papa il re di Francia il re d'Inghilterra qui c'è il sacerdote ebreo bendato tema antisemita che non vede la verità che invece vede la chiesa qui ci sono i cattivi diciamo qui ci sono i buoni e qui c'è un ritratto che è probabilmente il ritratto di Hubert van Eyck la stessa persona effigiata nell'agnello mistico probabilmente un omaggio postumo di Ian a suo fratello ormai morto da più di dieci anni qui c'è un poggiolo con degli angeli musicanti delle meravigliosi torri e poi questo grande trono a Guglia con Maria e Giovanni questa volta l'evangelista Maria e Giovanni l'evangelista che si abbinano a un Cristo Cristo un Dio diciamo molto simile a quello dell'agnello e infatti davanti c'ha l'agnello quindi ancora una volta la stessa chiave di lettura dell'agnello mistico questo tema degli angioletti che fuoriescono dalle torricelle avrà un'immensa fortuna nel 500 nordico soprattutto tedesco un'opera impressionante un'opera tra l'altro di grande formato il tagliata ovvio diciamo la punta della Guglia sono due metri quindi un dipinto di cospicue dimensioni Tardo siamo intorno al 1440 e scusa fatevi contare una cosa av un attimo solo sì sì ok Tardo questa invece è l'ultima opera di Jan Jan era molto legato alla Certosa di Bruges dove verrà sepolto e alla fine del 1440 riceve l'incarico dai Certosini di realizzare questa pala è la Madonna col bambino e due sante a destra Santa Brigida a sinistra scusa Santa Geltrude Geltrude di Hefta Santa Geltrude a sinistra Santa Lucia e il priore dei Certosini che è figiato in ginocchio è un dipinto molto bello ma molto stanco Jan sappiamo che lo abbozza poi non ce la fa più e l'opera verrà completata dopo la sua morte da Petrus Christus e sullo sfondo c'è un po' raggelato il modello della Madonna Ron Lenn vedete no? la città il ponte un po' più freddo un po' più scolastico le figure sono un po' più rigide sono un po' più geometrizzanti i colori sono più metallici insomma è chiaro che qui Jan l'ha ideato ma poi l'ha realizzato Petrus Christus perché ormai stava morendo è morto appunto all'inizio del 41 e viene sepolto nella certosa di Bruges solo un appendice su quello che è un parente probabilmente un cugino di Jan e di Huber che è Barthélémy Bartolomeo Fanayc di solito lo si pronuncia alla francese Barthélémy Deic o Deic perché è attivo soprattutto nella Francia meridionale in Provenza questo è il suo capolavoro è quello che resta del manca tutta la carpenteria del trittico dell'annunciazione di Aix en Provence la grande città provenzale quindi sud della Francia dove alla corte di Renato D'Angiot Duca D'Angiot Conte di Provenza candidato al trono di Napoli si raduna una raffinatissima corte di intellettuali di artisti qui la splendida immagine dell'annunciazione con questa chiesa come vedete su due livelli Navata e Atrio per permettere la raffinazione del Padre Eterno e qui i due santi profeti Isaia e Geremia con questa marea di libri palesemente derivate dal San Gerolamo di Detroit di Jan van Eyck che vi ho mostrato poco fa clamorosa e queste tutte le altre caratteristiche vedete di evidente derivazione Barthelemy Deick è influenzato certamente dal parente come lo è quell'altro grande autore di miniature della corte di Provenza che è l'autore di una serie di libri d'amore e molto probabilmente questo grande miniatore è lo stesso Renato di Provenza è lo stesso re Renato re titolare di Napoli duca d'Angio conte di Provenza che si diriziava e con che esiti eccezionali di miniature vedete che questo angelo d'amore sarebbe inconcepibile senza il San Giorgio della Pala van der Poel di Jan van Eyck e ultimo il grande Petrus Christus mia moglie buonanima era innamorata di questo dipinto che a Berlino sta di fianco esattamente di fianco alla Madonna col bambino nella chiesa di Jan questo è il capolavoro di Petrus Christus ritratto di Dama non sappiamo chi sia questa fortunatissima signora sappiamo solo che il dipinto è di una travolgente enigmatica bellezza ci hanno fatto addirittura dei film su questo quadro qualche anno fa c'era un film mercante di quale quello con Geoffrey Rush con questo dipinto questa figura tra l'altro come spesso avviene a Petrus geometrizzata e sarà questo il modello perché quest'opera era conosciuta a Firenze attraverso probabilmente delle copie sarà il modello di un celebre dipinto del rinascimento italiano oggi alla National Gallery of Art di Washington DC chi mi sa dire quale un ritardo femminile ovviamente il ritratto di scusa no 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 quella di Afermer è il ritratto di Ginevra Benci di Ginevra De Benci di Leonardo Da Vinci penso un po' per la serie l'influenza della pittura fiamminga ora la non sperate di esservela già cavata ho ancora una chiusa da fare dopo queste splendide immagini ecco abbiamo finito in gloria è molto difficile finire meglio che con Jan van Eyck talmente travolgente devastante e infatti ho fatto un'eccezione cioè è l'unico artista di cui vi ho mostrato l'intera produzione nota questi sono tutti i dipinti che noi abbiamo di Jan van Eyck non uno di più non uno di meno in realtà non erano tutti ovviamente a parte i perduti come la tua Eletta o Salvatore Mundi d'accordo ma ce n'erano molti altri noi sappiamo che una collezione genovese del 400 quella a Palazzo Lumillini si vantava di avere 40 dipinti di Jan ora 40 sono di più di tutti quelli che vi ho mostrato e non li avevano tutti loro è chiaro che alcune erano copie o derivazioni ma questo vuol dire già come numero l'importanza che i modelli fiamminghi avevano raggiunto noi abbiamo questa area di intescambio Fiandre Inghilterra nord della Francia abbiamo la diffusione via terra impero Polonia Bohemia Italia ma abbiamo soprattutto la grande diffusione via mare la Manica la Bretagna e giù Spagna e Portogallo che sono infatti precocissime se voi andate nella capiglia dello Sreffies cioè nella tomba dei Reyes Cattolicos Ferdinando e Isabella nella cattedrale di Grenada trovate la trovate tappezzata di dipinti fiamminghi chiaro se voi fino al Cinquecento fino a Carlo V a Filippo II loro erano collezionisti fanatici di pittura fiamminga non è un caso che il Prado a Madrid e l'Escorial siano gremiti di pittura fiamminga e poi e poi le grandi località marittime italiane come già dicevo Tagliari Palermo Messina Napoli Genova Venezia sono grandi baricentri ma anche città terragne come Firenze e soprattutto come Milano sono segnate da precoce massicci arrivi dei capolavori fiamminghi ora su questo allora vorrei davvero concludere il nostro ragionamento noi abbiamo studiato la storia dell'arte dal pieno e dovevo fatto delle brevi premesse su Longobar dei Carolingi ma ci occupiamo dall'età ottoniana abbiamo visto il grande sviluppo del romanico e abbiamo visto il grande sviluppo del gotico di questo alla fin fine ci siamo occupati con qualche inevitabile precisazione i grandi baricenti del nostro intero corso sono stati il romanico il gotico il gotico con quella sua forma finale il tardo gotico il gotico internazionale il gotico fiammeggiante il gotico europeo il gotico for flamboyant chiamatelo come volete il gotico internazionale che è l'ultima e più matura espressione ma è anche qualcosa d'altro un gotico che si contrappone radicalmente all'umanesimo italiano nascente ma che collabora molto bene con il mondo fiammingo i grandi pittori i grandi scultori fiamminghi vivevano in edifici gotici e in spazi sacri profani gotici ok non solo ma per quella via l'arte fiamminga poi influenzerà l'umanesimo italiano in questa fase molto di più di quanto avvenga nel senso contrario occhio alle date quell'umanesimo che io ho dato per ovvio ma ovvio non è che come fenomeno culturale cioè filologico letterario di recupero dell'antichità di consapevolezza della fine dell'antichità e quindi di necessità di farla rinascere nasce negli anni 60 del 200 a Padova preumanesimo padovano trionfa negli anni 30 del 300 con la grande attività di Petrarca di Francesco Petrarca ma questo umanesimo diciamo così letterario filologico solo più tardi si tradurrà in formule artistiche la prima scultura umanistica in senso proprio è la formella del sacrificio di Isacco che Lorenzo Ghiberti esegue nel 1400 1401 per la gara per la porta nord del Battistero di Firenze e la prima architettura umanistica come già dicevo è l'ospedale alla Fiorentina degli innocenti progettato e realizzato da Filippo Brunelleschi a Firenze a partire dal 1409 ora è chiaro che quindi poi ci sarà il grande umanesimo quattrocentesco e poi rinascimento cinquecentesco eccetera eccetera e questa è un'altra storia come l'arte fiamminga proseguirà una propria storia che verrà segnata da geni assoluti come li dico in ordine come Fugo van der Goess come Gerard David come Hieronymus Bosch come Pieter Bruegel e poi giù giù fino a Peter Pauvel Rubens fino a Rembrandt Armes Farrain fino a Jan Vermeer giù giù fino a Hobbema fino a Jordens fino a Ruisdel fino al fatidico 1706 in cui l'arte fiamminga tracolla i più grandi pittori Hobbema e Ruisdel muoiono nello stesso anno 1706 e da quell'anno noi non abbiamo più un'arte fiamminga l'arte fiamminga intesa come fenomeno autonomo è databile diciamo tra il 1390 e il 1700 tre secoli poco più di tre secoli in cui però vengono fuori i capolavori inauditi il gotico internazionale come avete visto prosegue fulgido ma esiste una cesura a metà quattrocento uno dei luoghi dove è più palese questa cesura in cui il tardo il gotico internazionale diventa un gotico ormai di provincia in cui la famosa battuta al tardo gotico diventa gotico tardo diventa un fenomeno residuale è proprio la metà del quattrocento e questo si può vedere in modo palmare a Milano a Milano nel 1447 muore l'ultimo dei visconti Filippo Maria Filippo Maria era un omosessuale di fama internazionale la sua propensione era nei giovani paggi però a un certo punto aveva avuto una botta di etero e aveva fatto due figlie con una concubina una di queste era morta giovanissima l'altra era sopravvissuta bianca Maria e aveva sposato il condottiero capitano di ventura Francesco attendolo detto lo sforza suo padre Muzio attendolo da cotignola Moschè era romagnolo dicevo era stato chiamato soprannominato lo sforza i rompicoglioni tanto per dirlo in modo meno carino e l'aveva preso come cognome allora bianca Maria sposa Francesco sforza quando nel 47 muore Filippo Maria lascia re del re di Napoli Alfonso d'Aragona che nel frattempo aveva unificato tutto il sud Napoli inclusa sotto il suo scettro ma Alfonso non ce la fa ad arrivare in tempo i milanesi proclamano la repubblica la serenissima repubblica ambrosiana 1447 1450 abbiamo un'unica testimonianza pittorica pensate un po' che è il castello di Masnago nel castello di Masnago sono raffigurati i vizi e le virtù la prodigalità che è un vizio ha stampigliate delle vere monete che sono state usate come modello come stampone sono monete della repubblica ambrosiana quindi il castello Mantegazza Castiglioni di Masnago ha quegli affreschi databili in quel triennio poi Francesco Sforza prende il comando e fonda con Bianca Maria la nuova dinastia degli Sforza Visconti che con alterne vicende regneranno su Milano fino al 1535 ora Francesco Sforza amicissimo di Cosimo de' Medici che negli stessi anni stava imponendo la sua criptosignoria a Firenze a Milano Francesco Sforza è il grande introduttore dell'umanesimo per cui dal 1450 avremo grandi complessi umanistici come la Cagranda l'ospedale maggiore voluto da Francesco Sforza e progettato dal Filarete eccetera eccetera ma a Milano rimarrà tenace una memoria gotica dove nel cantiere più gotico di Milano cioè il Duomo il Duomo non potrà mai rinnegare le sue radici gotiche ci saranno sempre è ovvio si va avanti fino al neogotico ottocentesco e novecentesco a fare in stile gotico al Duomo di Milano e bene e come in generale ci sarà un neogotico evidentemente dal 700 all'800 al primo 900 che trionfa come stile eclettico cioè come resurrezione dopo secoli di un gotico già morto vi segnalo un esempio clamoroso di neogotico in provincia di Varese le stalle di Villa Borromeo a vigiù tanto per al Ceresio tanto per dirne una bene e questa vicenda noi abbiamo cercato di comprendere ora ricordo a quelli di voi che fossero interessati alla storia dell'arte che alla magistrale e scusatemi al secondo e terzo anno voi potete fare storia dell'arte moderna che vuol dire dalla nascita del romanesimo a Napoleone potete fare storia dell'arte contemporanea che vuol dire da Napoleone a oggi alla magistrale poi per chi la farà uno può fare archeologia che ha il difetto di essere funestata dal fatto che la faccio io però vuol dire dalla preistoria all'età ottoniana appunto e poi chi vuole può fare anche un altro corso che storia dell'arte contemporanea dell'ultimo cinquantennio cioè proprio l'iper contemporaneo fatto in modo più approfondito l'abbiamo fatto con qualche salto e qualche giravolta per permettere a tutti sull'arco dei cinque anni di fare l'intero percorso della storia dell'arte dalla preistoria a oggi questo è il desiderio ora invito allora tutti a studiare con calma con razionalità a non fare indigestioni che non fanno bene a nessuno di libri come di Patè di passare sante buone vacanze di Natale Buon Natale Buon Anno eccetera eccetera e soprattutto soprattutto di ricordarsi che gli esami non appartengono al genere torture ma al genere incontro di cultura cioè evitate ogni e qualsiasi nevrosi da esame di questo vi supplico ardentemente se poi nelle vacanze di Natale qualcuno è così pazzo di andarsi a vedere magari una chiesa o un museo magari cose di cui abbiamo parlato non è che proprio fa schifo se lo può anche per mettere fuori dai piedi arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.